C'è chi fuma per vizio, chi per noia, chi per darsi un tono. Nel 2003 avevo 28 anni. Anarchico, portatore sano di precariato cronico. Studiavo per fare l'attore e sognavo di diventare regista di videoclip e documentari sociali. E dov'è che dovremmo andare? Precisamente qua, in Iraq. E allora siete scemi. Se i bambini guadiscono tutti. Prima sigaretta a Nassiria. Ma tu sei un civile? Sì. Cazzo ci fai qui? Sono venuto per girare un film. Che devi fare? Ma come cazzo ti sei vestito? Tranquilla, Mattei, qui puoi fumarmi o male. È la seconda, eh? Goditi ancora queste orette di riposo che da domani non ti darò tregua. Voi in Italia non sapete niente di quello che sta succedendo qua. Cazzo, dovremmo seguirli! Via! Via, via, via! Via, 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 via! È venti. Giusto il tempo di finire un pacchetto. Ho smesso tante cose. Non sono riuscito a smettere di fumare. No. Ho smesso. Grazie a tutti.